Buonasera a tutti, bentornati Grazie al consueto appuntamento aspettando il Tg che stasera ha un momento particolare perché vi faccio subito inquadrare il nostro tavolino è un tavolino che raccoglie probabilmente alcuni fra i formaggi più prestigiosi al mondo visto che colui che li crea, li affina, li protegge e a cui veramente noi ci siamo rivolti proprio per avere il meglio del meglio è un formaggiaio che ha vinto di tutto e di più è qui in Toscana e quindi stasera vedremo come utilizzare i formaggi presenteremo alcuni dei formaggi che giustamente nella tavola delle feste possono fare da protagonisti semplicemente anche una scaglietta soltanto ma di quello giusto ci può rendere prestigiosa una cena abbinando appunto anche al vino giusto con una bella insalata però se volessimo usare invece i formaggi anche come ingrediente principe di una ricetta non ci resta che avere una grande chef che da tantissimo tempo causa cambiamenti e traslochi nella sua vita non avevamo qui ad aspettando il Tg Beatrice Segoni, il ristorante è il connubio, via dei conti Firenze Beatrice col suo assistente Ciao carissima Ecco ti Come stai? Benone, ecco lui dove abbiamo messo il microfono, vai subito a prenderlo il microfono Allora Beatrice, siamo molto felici di averti qui Grazie Dopo che hai cambiato location potremmo dire Ho cambiato location e ho trovato casa mia perché sto veramente bene veramente bene, amata e rispettata da tutti Questa è la cosa più importante, brava, lo sei sempre stata e quindi Continuo ad esserlo Continuo ad esserlo Creativa, lo sei sempre, hai cambiato qualcosa nella tua cucina? No, non è cambiato niente Non è vero Non è vero, mi hai detto che ti sei un pochino anche rivolta nei confronti di coloro che amano ormai solo le verdure Ah sì, perché questo fa parte del concetto del ristorante per il quale lavoro Infatti connubio significa l'insieme di tante cose Ecco E che finiscono tutte bene Mamma mia, noi siamo un connubio potremmo dire Esatto, siamo un connubio Siamo un connubio quotidiano Esatto È vero? Allora, vi presento anche subito il nostro super super potremmo dire artista dei formaggi Non lo so come chiamarlo, bene sentiremo lui come vuole essere definito Andrea De Maggi, l'Oscar dei formaggi, secondo medale d'argento al Cheese World World Cheese World World Cheese World World Cheese World Di quest'anno Io lo chiamo colui che coccola i formaggi Perché lui li coccola proprio Ma coccola, però lui li crea pure, eh Che non saprei Tecnicamente è affinatore Io, siccome vado orgoglioso di essere toscano e in particolar modo chianino Mi definisco un cacciaio Un cacciaio Un cacciaio Tu sei tipo il mucco chianino tu invece No, no Il cacio chianino Cacciaio chianino, vabbè Cacciaio cici Cacciaio chianino Cacciaio chianino Allora Andrea, hai avuto proprio in questi giorni un riconoscimento veramente prestigiosissimo Perché l'argento con il tuo formaggio caprone Sì, caprone che è appunto un formaggio fatto con la tecnica di come si fa il pecorino Però utilizzando il latte di capra Stagionato dieci mesi nelle nostre cantine sotterranee Quindi è venuto un formaggio veramente particolare D'autore potremmo dire Ma non è solo questo perché lui ha vinto veramente tanti tantissimi premi Ci spiegherà alcuni dei suoi formaggi perché è molto interessante sapere che oggi in Toscana abbiamo veramente tanti formaggi di eccellenza E che l'unione di tutti i formaggi italiani ha fatto sì che abbiamo superato i francesi È vero? Non è calcolabile la quantità di formaggi che ci sono in Italia Basti pensare solamente in Toscana Dalle crete senesi alle bazze volterranee alla montagna pistogliese Cioè ogni zona ha delle peculiarità diverse La Maremma, ti sei dimenticato la Maremma Ho menzionato alcuni Bisognerebbe starci fino a domani a parlare Infatti Quindi è molto bello poterli presentare perché diventare più consapevoli del formaggio da avere in casa Anche da offrire in una cena particolare è interessante Ma io dico sempre che il formaggio è in grado di regalare delle emozioni Tutti gli alimenti se si lasciano ascoltare Perché vale la pena sapersi, come dire, farsi conquistare dal formaggio Solamente un aspetto, la crosta del formaggio Cioè la crosta si mangia o non si mangia? Ma senti Questo dubbio è amletico Io, allora, si mangia e non si mangia Io ormai mangio tutto No, bisogna conoscere il formaggio Per sapere quando la crosta è una componente essenziale Questa sera ho portato per te un'anteprima Veramente un'anteprima Davvero? Esatto Un prodotto che ancora non è in commercio Sarà a breve in commercio E l'ho chiamato bucaiolo Proprio così Perché tu, ricordiamo, i tuoi formaggi devono essere riconoscibili soprattutto da coloro Proprio grazie al mone, da coloro, grazie al nome Che magari li acquistano fuori d'Italia oppure anche in altre regioni E poi identificano un qualche cosa che è tipico di noi Di particolare Qui ho, diciamo, ho pensato questo formaggio in primavera E me lo sono fatto fare Volendo far mangiare la crosta di un formaggio stagionato Allora mamma mia Cioè è stato lavato accuratamente durante le fasi di stagionatura E poi nell'ultima fase lo abbiamo forato Quindi da questo Abbiamo fatto dei buchi Quindi dei bucaioli Dei buchi E da questo il nome è bucaiolo E abbiamo inserito all'interno del fiore del seme di finocchio Questo è un formaggio dove Quando si mangia all'interno abbiamo una, come dire, una gradevolezza Una dolcezza e la sapidità del formaggio In contrapposizione a questa delicata sensazione di finocchio Ma la sorpresa quando si arriva alla crosta Perché è veramente un'esplosione di sapore E' veramente una cosa faccina Vogliamo lasciarti esplosere Dov'è? Eccolo qua Qual è? Mamma mia Fammi sentire e vedere Mmm Sa di finocchio molto lievemente Molto delicata Ma quando si arriva E va mangiata anche la crosta Assolutamente sì La crosta è veramente la parte migliore A parte Beatrice che ti stima tanto e che usa i tuoi formaggi Quindi vedremo dopo un po' che cosa raccontare Allora mettilo lì e vediamo un attimo Beatrice che mi fai oggi? Allora io ho fatto due piatti proprio in onore di Andrea Usando i suoi formaggi Facciamo, subito ti faccio uno gnocco ripieno Con due formaggi che adesso Andrea vi spiegherà Bene Sotto al quale metterò una crema di cime di rapa Dove c'è la puntina di acciuga, il peperoncino, l'aglietto Quindi siamo proprio come se fossero l'orecchietta le cime di rapa Invece è l'ognocco va bene? Esatto Che vi devo dire? Meglio Allora mi sembra di avere ancora in stand by il quiz Subito dopo vi farò vedere perché l'ho perso Il mio piattino con quegli elementi verdi Che potremmo dire dobbiamo ancora identificare E che daranno diritto a chi individerà appunto che cosa sono Di andare a pranzo o a cena ai tre bicchieri di Arezzo Ecco qua Di che cosa si tratta? Allora prima di andare a fare gli gnocchi va bene Io direi di ricordare appunto il numero in sovrimpressione E poi cominciamo l'ognocco Poi quando arriviamo al formaggio passiamo a te Bene Allora abbiamo fatto bollire le patate Che tipo di patata? Vecchia? Sì una patata nuova non fa mai un buon gnocco Perché rilascia l'acqua e quindi l'ognocco rimane troppo molle Una patata deve essere vecchia ma non troppo piena di germoglio Ecco Io preferisco usare una patata rossa Perché è una pasta molto granulosa per l'ognocco La patata rossa ricordiamo di montagna Bianca in genere come pasta Però con una grande grande tenuta che la rende perfetta per l'ognocco Esatto Il tuo collaboratore come si chiama? Presentiamolo Si chiama Gianluca è il mio grande non solo collaboratore Appunto era un modo di dire Più che collaboratore Più che collaboratore Eh sì Fra un po' marito Fra un po' marito Fra un po' marito Speriamo Speriamo Qui tra un po' nel 2016 tutti i nostri cuochi devono avere un rivoluzionamento affettivo Poi l'anno dei capricorno sentivo dire Davvero? Non lo so Davvero? Sì sì Mi dicevano così Aspetteremo Allora io faccio una cosa Vi aspetto il primo o il 31 non lo so Quando ho il nostro astrologo informatico Ah perfetto Non mancherò sicuramente Vediamo se l'anno Va bene Posso sposare Vediamo Allora ci hai messo un mucchio di che cosa? Allora ho messo del parmigiano Un po' di noce moscata Un pezzetto di burro E un po' di sale Stop Parmigiano tantissimo eh No Lo gnocco deve un po' sapere Lo gnocco e il parmigiano Lo gnocco è patata e parmigiano Cioè deve sapere di parmigiano Che dici Gianluca conferma Qualsiasi cosa dica la bea Lui confermo Ho la maestra fisica La maestra di gnocco è vero che è Però devo dire la verità che Io non ho mai messo il parmigiano Sempre preferito avere Nature la patata No Io lo metto E un po' di farina Quanta farina va messa Per regola Non c'è una regola Dipende dalla patata Se la patata è buona Non ce ne va tanta di farina Perché è la farina Che nasconde la patata Non il parmigiano Va bene Ok Ma se qualcuno fosse a legge Quale il parmigiano Non ce lo mettete Beh vabbè Questo è normale Chiaramente Gli gnocchi vanno fatti e cotti Sì Anche se molti sostengono a dire Che debbano essere surgelati Invece No Secondo me lo gnocco va fatto e cotto Deve essere fresco Il problema di quando si surgelano Poi potrebbe essere Che se non si gettano in acqua Ancora da surgelati Lo gnocco diventa molle Ecco Quindi diventa praticamente una pappa E allora non va bene No Quindi o lo si fa fresco Oppure se avete la necessità di surgelarlo Bisogna avere l'accortezza di buttarlo in acqua ancora congelato Perfetto Senti un'ultima cosa Quello che è il sughino diciamo che hai creato Come l'hai fatto? Lo vogliamo ricordare? Ho preso la scima di rapa E ho fatto come quando si fa proprio il zughetto per l'orecchietta Quindi ho preso un fondo d'olio Ci ho fatto rosolare un pochino di aglio Un tantino di scalogno A questo punto Ho preso delle acciughe E le ho fatte sciogliere e le ho fatte sciogliere dentro quest'olio Ecco Ho scottato le scime di rapa Le ho tritate e le ho messe insieme a tutto il resto Ho aggiunto un pochino di brodo vegetale Ho fatto cuocere appena le scime di rapa E ho frullato tutto quanto Ma questo verdone meravigliosa è questa cremina L'importante è quando si fanno bollire tutte le verdure E raffreddarle in acqua e ghiaccio Ecco la solita bella doccia fredda Che da questo È due anni che tutti vogliono questo shock termico Esatto Fa mantenere il colore la clorofilla praticamente Perfetto Senti questi gnocchi sono quelli che magari voi andando a comprare Troverete costossissimi perché in genere lo sono E devono essere soprattutto di ottima qualità Perché altrimenti se si usa un formaggio scadente all'interno Insomma viene meno no? Esatto Sono quella sorta di bauletti Non li chiamo scusatemi gnocchi ma li chiamo bauletti Dove va inserito il formaggio Ma che formaggio? Ora vedremo che tipi di formaggio hai scelto Sì Io mi sono fatta consigliare da Andrea Perché lui è un mago del formaggio E mi ha consigliato addirittura due tipi di formaggio da inserire all'interno dello gnocco Ecco Andrea Dimmi un attimo che tipo di formaggio Nel frattempo Ovviamente si cerca sempre un connubio Per tornare Bravo Grande Andrea In questo caso abbiamo scelto Ho scelto un formaggio che si chiama Gran Cacio Candidum Che è un due latti Mucca e pecora A crosta fiorita Che tende a dare la dolcezza e la cremosità Quindi tende a essere molto cremoso Ecco la crosta fiorita Vedete è questa Cioè questa sorta di vellutino Che ricopre il formaggio Che noi possiamo assolutamente mangiare Dobbiamo mangiare Anzi è un fungo Tra l'altro si sente l'odore di champignon fresco Si sente nella crosta Io sento che ho fame Devo riuscire un topo Ovviamente Mamma mia L'altro formaggio Io ti mangio un pezzo di crosta L'altro formaggio invece si chiama Bria Cacio Che è un erborinato in questo caso Per dare sapidità Quindi per dare struttura Al formaggio contenuto All'interno di questi inghionchi E è un formaggio di latte vaccino Affinato su una bagna di rum e uvette E quindi è un formaggio Molto particolare nel suo essere Veramente Poi ve lo facciamo vedere nel tavolone E questo invece che cos'è? Questo è il candidum E la parte interna del candidum Tagliata ad ad Vedete e qui abbiamo la crosta Allora voi dovete sapere Che per seguire un certo bonton Diciamo nel mangiare il formaggio Bisogna all'inizio proprio usare le mani Quindi proprio il classico finger food Più finger è proprio il formaggio Perché vedete Se noi prendiamo Già ci accorgiamo Di quella che è la consistenza Della struttura Della struttura Quindi se è elastico Se è duro Se è rigido Ecco fammi vedere come deve fare Un assaggiatore di formaggio In questo caso Siccome il formaggio Da appena viene tagliato Perde alcune La parte degli odori In quanto esalano Quindi bisogna spezzare il formaggio E metterlo sotto le narici Perché avvertiamo l'odore di Burrocotto Fungo Fungo champignon Fresco Latte Latte bollito in questo caso E avvertiamo Nel contempo Anche quella che è la consistenza Quindi in questo caso È leggermente Sicuramente È elastica Certo Adesiva Non si affonda tipo stracchino Ecco adesiva È detto bene È deformabile In quanto come Se incidiamo Usando il polpastrello Rimane l'impronta Esatto Esatto Quindi poi dopo La seconda valutazione Dal punto di vista strutturale L'abbiamo nella nostra bocca Perché in questo caso Avvertiamo Esempio Questo si fa sempre Per far capire L'effetto che dà L'albume Dell'uovo Dà il senso Dell'umido Oppure La friabilità Del cracker È diversa Dalla meringa La meringa È solubile Il cracker È friabile Quindi in bocca Abbiamo due consistenze diverse Quindi rigida Come la carota cruda Per dare la sensazione Della durezza Oppure l'elasticità E il wuster Perché Nella nostra Cioè non bisogna paragonare Il wuster? No La sensazione Se uno fa un'associazione Di idee Pensando Io veramente Senti Ho associato Che tanto buono Ho associato Solo un connubio Di bontà Bene bene Questo mi fa piacere Ovviamente È vero però Che le papille gustative Hanno Nel loro interno Dei recettori diversi Tipo l'amaro in fondo Il dolce all'inizio E quindi Per assaporare un formaggio Bisogna lasciarlo esplodere Dentro la bocca Innanzitutto ci vorrebbe La corretta temperatura Una cosa Che magari Mai nessuno Si tolgono dal frigorifero E si mangiano È la cosa più sbagliata Perché si percepisce Appena un 20% Di quella che è La sapidità E l'aromaticità Del formaggio stesso Quindi deve essere Degustato un po' Come la mozzarella Quando arriva Che non deve 16-18 gradi La temperatura Degustazione Allora Andiamo a vedere Vieni Andrea Questi gnocchetti Allora vedete Allora ho fatto Il bigolo Ho tagliato Un pezzo Girato E messo Il segno del dito Ed è qui Che deve essere Ospitato Il formaggio Allora Ospitiamo Quindi mettiamo Un pezzetto Di un tipo Un pezzetto Di un altro Siamo generosi Perché Parecchio Perché tutto quello Che si mette Si ritrova Un nostro amico Che forse Presto dovrebbe Arrivare E poi Facciamo Questo lavoro Facciamo Un fagottino Ok Una volta Fatto il fagottino Diventa Ecco Così Allora Certamente Questo tipo Di gnocco È estremamente Calorico Estremamente Sostanzioso Quindi non pensate Di dare Un piatto Gigantesco Di gnocchi Perché questo È un'esperienza Proprio Sono curiosa Di sapere Poi Se dopo Si può Proseguire O meno Con i formaggi Di questo tipo O possiamo passare Ad altri Cioè facendo Una sequenza Ma concettualmente Qui si parla Sempre di un primo piatto Arricchito ovviamente Di un formaggio All'interno Ma se si pensa A una pasta Al pomodoro Dove sopra Mettiamo un po' Di parmigiano Già lì abbiamo Del formaggio Solitamente Il formaggio Si sostituisce Alla carne In quanto Se mangiamo La carne Dovremmo evitare Di mangiare Il formaggio Questo sicuramente In quanto Come valori nutrizionali Ovviamente Bisognerebbe vedere Quale tipologia Di formaggio Stiamo mangiando Ma 100 grammi Di formaggio Equivalgono A 400 grammi Di carne Ecco Quindi Pensate un attimo Anche a livello Nutrizionale Quanto Il formaggio Sia sostanzioso Basti pensare Che un tempo Nell'antica Roma Era molto facile Trovare I formaggi Mentre molto Meno Era D'uso L'uso Delle carni E quindi E quanto Anche Fossero fonte Di sostentamento I pellegrini Quando partivano Alla volta Del pellegrinaggio E quindi si parla Di anni Prima di raggiungere Per esempio Lungo la via Francigina A Roma Avevano sempre Il cacio Perché il cacio Comunque è Molto molto Energetico E alla fine Anche estremamente Digeribile Adesso noi finiamo Durante la pubblicità I nostri Super gnocchi Bombardati E vediamo dopo Se arrivano I due gnocchi Voi vedrete Chi sono Pubblicità Grazie a tutti